Presa dal Terminillo, strada completamente ghiacciata, si frena l'intimitore di prima, nemmicata veramente copiosa, manto stradale, diciamo manto nevoso, completamente ghiacciato, si scende di prima e di seconda, molte macchine di traverso, molta gente che penso che stranamente non ha mai visto la neve neanche a Terminillo, mi sembra strano vedere gente bloccata con certe macchine.